Carissimi amici, stiamo per intraprendere uno dei momenti centrali della vita della Chiesa amazzonica, come potete vedere il paesaggio è paradisiaco, è stupendo, qui tutto si tiene, tutto si connette, la biodiversità, il bioma, gli animali, la flora, la fauna, secondo alcuni studiosi se manteniamo questo equilibrio, l'equilibrio della foresta amazzonica anche nel mondo ne avremo dei benefici, nel senso che questi alberi possono trattenere l'anidride carbonica e se l'anidride carbonica è trattenuta noi rischiamo di soffocare su questo pianeta, ma come potete vedere la vita delle piccole comunità è molto semplice, queste piccole cappelle, così come si chiamano, dei caboclos dell'interno dove ci sono al massimo 20-30 famiglie che vivono di agricoltura, vivono un po' di pesca e qui vi voglio presentare, come si chiamano il padre João Manco? Goddio manco. Fala una cosa, il senso di chi? 我在 qui? La regione di San Francisco di Mojù, per se lo conosce per lì. Lì di Mojù e dei campi? Lì, lì per l'Agua Fria, Mercadinho... Mercadinho... Lì, quella regione lì dove vim per lì. Lì avevo tempo di ragazzo e vim per lì per lì. E qui, come è la vostra vita qui? Voi vivi in come? Ache vive in agricoltura, ne? Prontando arroz, prontando arroz. Hoje ninguè planta mai, ne? Ache compra. Oggi è solo mandioca, milho, feijão. Arroz e feijão, sta gostoso. È? Questo. Ache non lavoriamo mai con arroz, che non dà mai. Dopo che a gauchada vienerano e começano a burri farsi, ache planta arroz. Ma quando vieneram a gauchada? A gauchada, quando vieneram por aca? Credo che avevano 10 anni che situarono questa regione di Santarém. Un 10 anni fa che arrivarono. Lui sta dicendo, gaucho significa il brasiliano del sud, sono quelli confinanti con l'Argentina, con il sud del Brasile. Chiamati così, ecco, con al massimo un titolo un po' spregiativo. Per dire che ecco, sono quei popoli del sud che vengono al nord, comprano le terre e vi piantano la soia. O che è la soia? La soia è per tirare l'olio, l'olio di soia. Questo olio che noi compriamo. La soia è un feijão. Ecco, lui sta dicendo che la soia è un olio che loro piantano e dal quale possiamo ricavare anche il combustibile. Come sapete il Brasile ha rilanciato il biofuel, biodiesel, no? E molti contadini qui autoctoni sono dovuti andare via proprio perché con l'arrivo dei gauchos, che hanno occupato queste terre, a volte anche illegalmente, attraverso il sistema dell'agrilagem, hanno mandato via gli abitanti locali. E Seu, che pensa rispetto all'Amazonia? Qual è il futuro dell'Amazonia? Olha, do jeito che sta indo, la nostra regione, tanto i gauchos, distruendo la nostra floresta, il madeireiro, il fazendeiro. Daqui a 40 anni noi non abbiamo più floresta. Ecco, lui sta dicendo una cosa che è allucinante ed è una sacrosanta verità. E da qui a 40 anni il costruttore di legname, quelli che stanno abbattendo gli alberi della foresta, il madeireiro, il costruttore, quelli che vengono a piantare qui la soia, in 40-50 anni faranno fuori la foresta. Seu, e o che fare? O che fare? O che fare è che noi dobbiamo avere un governo che proibba la nostra regione, non è una regione di soia, la nostra regione è una regione di proteggere. e solo chi protegge l'Amazzonia è un piccolo agricoltore. Ecco, lui sta dicendo una cosa importantissima. Stiamo dicendo che dobbiamo proteggere l'Amazzonia e il vero protettore dell'Amazzonia sono i piccoli agricoltori, non quelli che vengono qui a piantare la soia per fare negozio, per fare i propri interessi. Perché poi quello che rimane qui a loro è molto poco degli estranei che vengono a piantare qui. loro dicono che dobbiamo resistere a questa situazione anche con il governo. Ma il governo che li fa? Il governo non aiuta il piccolo agricoltore. Bota mila di democrazia e dice che c'è un empréstimo per il piccolo agricoltore. Il piccolo agricoltore non consegue questo empréstimo perché noi non abbiamo il titolo da terra. Se vai nel banco e non ha il documento da terra, è la terra del governo. Stai sentendo, sta dicendo che il piccolo agricoltore non ha il titolo definitivo della terra, il titolo catastale della terra. Per cui si vede derubato, si vede privato di un diritto inalienabile che è il diritto di avere il titolo delle terre e quindi il governo non fa molto per i piccoli agricoltori. E ai il nostro governo, il guarda, aiuta praticamente i coltivatori di soia e quindi automaticamente aiutando i coltivatori di soia non aiuta i piccoli contadini. Ma, Seu, vamos ter fé in Deus. Ora... Deus e Pai. Allora, noi, noi, un piccolo agricoltore, vivemo desprezato. Eh... del Reino. E quindi loro dicono che loro non hanno difesa. Ma, non ti preoccupi Seu. Allora, noi, a missa... Per dire a Deus la protezione. Allora, questo è buono. Allora, siamo guidati qui alla comunità. Questa comunità, questa comunità è dedicata a quem? Il padroeiro? Il padroeiro. Il padroeiro. quindi il San Pedro è quello che Gesù ha detto è che sei la pedra e su questa pedra io construirei la iglesia buona tardi oi ragazzi come potete vedere le chiesze dell'amazzone, le parrocchia le comunità sono vieno di bambini viva i bambini, una salva di palma agli bambini ecco queste comunità mi ricordano tanto le mie comunità del Messico Mistec ah che nostalgia quando sono in Messico è nostalgia del Brasile quando sono in Brasile è nostalgia del Messico quando sto nel Messico ho la salute del Brasile quando sto nel Brasile ho la salute del Messico ma io gosto dei due viva il Brasile applausi